Oggi siamo invitati a nozze e chi c'è ad aspettarci? Padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista che torna a trovarci. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana e soprattutto rispondiamo a questa chiamata, visto che hanno annunciato oggi le nozze, ma sai Cana, io darei questo titolo oggi, Cana annuncia le nozze della croce, perché sembra strano, un po' come a Natale, ti ricordi abbiamo detto che il Natale inizia quell'incarnazione che viene portata poi al compimento proprio sulla croce. Cana è la scena bellissima di un matrimonio, ancora oggi le traduzioni dicono che pure Gesù fu invitato, certo la parola può significare anche invitato, ma quel passivo eclete dal verbo caleo, chiamare, Gesù fu chiamato. Domenica scorso ne abbiamo visto che il padre lo ha chiamato, quando quella voce dal cielo ha detto tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto, c'è una chiamata continua anche di Gesù a 12 anni nel Tempio, il quinto mistero gaudioso, domenica scorsa l'abbiamo visto nell'episodio del battesimo, oggi siamo davanti alla terza epifania. Che cos'è Cana? Cana è l'invito a nozze, ma lì degli sposi non si parla proprio, non sappiamo nemmeno come si chiamano, perché in realtà lo sposo è Gesù. Gesù annuncia le nozze alla madre, ai discepoli, ai parenti che sono lì, ma quelle nozze saranno celebrate soltanto sulla croce, quindi Cana è una prolessi, una anticipazione. Non tutti sanno anche che dietro questo racconto c'è tutta la famosa teofania, siamo ancora vedete nel linguaggio della rivelazione, del Sinei, perché Cana è il terzo giorno, ma se misuriamo prima ci sono altri tre giorni, l'indomani, l'indomani, l'indomani a Cana siamo al sesto giorno come al Sinei, quindi davvero interessante. E quando c'è quella dichiarazione in realtà Cana oggi nella terza epifania ci ricorda la sostituzione dell'alleanza. Con Gesù c'è una novità, abbiamo detto domenica scorsa, c'è una rottura come con Giovanni, non ci sono più sacrifici, non c'è più sacerdozio del Tempio, c'è Gesù che è la parola del Padre, è la misericordia del Padre. Il significato di questo racconto, lo dico subito all'inizio, Giovanni vuole dirci che nella persona di Gesù cambia l'alleanza, viene sostituita o se volete portata a compimento quell'antica relazione con Dio, perché quella tradizione sinaitica, giudaica, parlava del matrimonio al Sinei, dove Dio è lo sposo e Israele è la sposa e anche lì c'era una struttura settimanale. Eravamo al sesto giorno nell'Esodo al capitolo 19. Così come siamo al sesto giorno, esattamente ora, in questo testo di Giovanni. Pensate che nel linguaggio corrente all'epoca di Gesù, i predicatori giudaici di quel tempo dicevano che l'evento del Sinei, cioè l'alleanza di Dio con l'antico popolo di Israele, era esattamente il testo, era la realtà, l'evento delle nozze di Dio con Israele. E questo evento è celebrato nella festa della Pentecoste ebraica e aveva proprio un ricordo noziale, un incontro amoroso, dove l'evento vino ha un ruolo importantissimo. Il vino fa parte della simbologia dell'alleanza. Dire vino significa dire le nozze. Le nozze dunque ci ricordano l'alleanza tra dire il suo popolo. Il vino, tra l'altro, è uno dei grandi beni che il Messia alla fine dei tempi porterà. Il vino, nella realtà giudaica, nella tradizione simbolica, è anche il segno della legge e quindi della rivelazione. Potremmo dire che è il grande dono che Dio fa al suo popolo. Sì, Dio sposo porta alla sua sposa il grande dono, la legge, la rivelazione. Ora, noi abbiamo celebrato già nell'Epifania questa manifestazione di Dio in Gesù Bambino. L'arrivo dei Maggi ci ha rappresentato, il battesimo di domenica scorsa ci ha ricordato la rivelazione del Padre e oggi le feste di Cano. Ecco perché dicevo domenica scorsa, quella bellissima antifona, oggi la Chiesa si unisce al Cristo suo sposo nelle acque del Giordano. Che matrimonio meraviglioso. Le acque diventano vino e rallegrano la mensa, l'episodio di Cana, e i Maggi accorrono alle nozze portando regali. Quindi queste epifanie che si intersecano sono bellissime queste tre domeniche che vengono uno dietro l'altro. Tra l'altro Cana è un nome che è importante. Ha dentro di sé Cana, un verbo che indica fondare, creare, acquistare. È un verbo molto denso di significato. Quindi Gesù, a me non piace tradurre fu invitato, ma fu chiamato. Come c'è una chiamata al battesimo, c'è una chiamata anche alle nozze. Ed è l'amata di Gesù che dice non hanno vino. Non dice non hanno più vino, ma non hanno vino, cioè manca il vino, mancano le nozze. Le nozze sono lo simbolo dell'alleanza. Quindi una relazione con Dio che è a sé. C'è una struttura, cioè religiosa, che è vuota. Ecco cosa dice la madre. E la madre parla a Gesù, perché la madre, che non viene chiamata Maria appositamente, rappresenta l'Israele fedele. Quell'Israele fedele che si rivolge al Messia, chiedendo questo vino. Non hanno vino. E quindi lo chiede. E Gesù la chiama donna. Donna, cioè il popolo, l'umanità. È la sposa. Che relazione c'è tra noi? Che c'è tra me e te? Come ti poni nei miei confronti? Il testo Greg è molto bello. Che cosa a me e a te? Dice letteralmente. Che cosa vuole dire con questa espressione? Quasi a dire come ti poni nei miei confronti? E poi aggiunge non è ancora giunta la mia ora. L'ora sarà il momento della croce. Le nozze saranno celebrate sulla croce. Quindi le parole della madre, della donna, sono le prime e l'ultime in questo grande Vangelo, il quarto. Sono il suo testamento, come diciamo noi biblisti. È la formula, tra l'altro, usata da Israele al Sinai. Quello che il Signore ha detto noi lo faremo. È una formula rituale quando si stipola l'alleanza. Ecco, la madre di Gesù svolge qui il ruolo del popolo fedele. Ecco perché si rivolge ai diaconi, ai servi, dice il testo. Qualunque cosa vi dica, poi esate, fatela, senza discutere. È una risposta pratica di obbedienza, di accoglienza, di disponibilità. Potremmo dire è la grande parola di Maria. È l'insegnamento della madre per ognuno di noi. Qualunque cosa dica, fatela. E anche le stesse gianne di pietra, che hanno lo stesso materiale delle tavole della legge, che ricordano il nostro cuore di pietra, direbbe il nostro Geremia. Quando ci darà il Signore un cuore di carne, sono i famosi capitoli 31 al 33 del grande profeta Geremia. O parlare di ricordare Ezechiele. Ezechiele 36, Ezechiele 37, le ossa. Per dire evidentemente che questo cuore sarà cambiato. Le giare sono 6, 7 meno 1, quindi l'imperfezione. Gesù viene per portare a compimento. Ecco perché dice anche di riempire fino all'orlo, quasi a dire la pienezza. Lui è colui che porta pienezza, che trasforma l'acqua in vino e porta a compimento la vera alleanza. E il capotavola, l'arco triclino, la traduzione italiana ci depista un po' perché dice colui che presiede il banchetto, ma la traduzione non è molto bella. In realtà l'arco triclino, il capotavola potremmo tradurre, è il segno, la cifra dei capi di Israele. Che cosa non sanno i capi di Israele? Da dove viene quel vino? Non sanno da dove viene lo sposo. Non conoscono Gesù. Non conoscono che lui ha portato il vino buono. Cioè quel vino esclusivo. Qui l'aggettivo è di qualità, quel vino unico, perché è Gesù che viene a sposare l'umanità. Ecco perché Cana è archeton semeion, l'inizio dei segni, ma io potrei dire meglio il modello di tutti i segni. E il testo non riporta l'ultimo versetto, il 12, dove c'è una inversione. Gesù è arrivato per ultimo al matrimonio, ora scende da Cana, si ritira a Nazareth e notate l'inversione. Gesù apre, poi c'è la madre, poi ci sono i parenti e i discepoli. E da questo momento in poi è Cristo la via da seguire. Lui è lo sposo dell'umanità e sulla croce ci invita ad andare tutti sotto quella croce dove lui, che è il pane di vita, chiede a noi di portare il vino, il vino dall'aceto, come dice il testo di Giovanni. E in questo modo pane e vino celebreranno un'eucaristia. Il matrimonio sarà consumato e vissuto sotto la croce. Ancora una volta, vedete, la Pasqua viene, come dire, in filigrana, appare sempre in tutti i testi, come abbiamo visto durante l'Avvento, durante il Natale, l'Epifania e al Battesimo. C'è la Pasqua che comanda davvero tutto l'anno liturgico. Che meraviglia! Questa è una delle pagine più belle del Vangelo, ma la lezione principale che ci viene proprio da questo Vangelo è che dobbiamo aspettarci sempre tutto da Dio, senza mai scoraggiarci. Indubbiamente, proprio così. E poi dobbiamo entrare nelle maglie. C'è Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, al numero 152, dove dice una cosa importante. Ricordatevi che per arrivare al senso spirituale dei testi bisogna partire dall'analisi letterale. Per cui non dobbiamo fare i fondamentalisti. Il testo va letto, va studiato, va tradotto, altrimenti quella parola resta inespressa. È una fatica, ma è una vera meraviglia. Penso che le nostre conversazioni bibliche, davvero, la gente ci chiama, ci manda tanti di scontri. Noi li vogliamo pure ringraziare. Io vorrei anche ringraziare oggi, Anna Maria, delle persone particolari. Mi hanno scritto dall'IPM di Catanzaro, questo carcere per minorenni, Vincenzo, dico solo il nome. Ecco, io vorrei salutare Vincenzo, tutti i suoi compagni, e dire loro che noi per i detenuti, per tutti quelli che stanno scontando una pena, abbiamo sempre una preghiera, un pensiero particolare. Perché Gesù li ha messi nel Vangelo. Ha detto ricordatevi di visitare gli ammalati, di visitare i carcerati. Noi li visitiamo con la nostra trasmissione. Oggi vorrei proprio farlo con un saluto di tutti quanti noi della redazione e di Teleradio Padre Pio. Vi siamo vicini, ricordatevi che il Signore permette sempre di poter ricominciare. Anche questo è un bellissimo augurio che vogliamo fare a Vincenzo e i suoi compagni e a tutti i detenuti d'Italia. Ricordatevi che è sempre possibile con Dio ricominciare. Lui ci dà sempre un'umanità nuova. Bellissimo. Grazie Padre Ernesto. Ovviamente ci associamo anche noi al tuo saluto. Un abbraccio che comprende tutti perché bisogna credere. Quello potrebbe essere l'unico ostacolo, l'incredulità che può vanificare le grazie in arrivo. E anche per loro ci sono grazie in arrivo. Certamente. Li salutiamo con tanto affetto. Grazie a te Padre Ernesto. Ci ritroviamo la prossima settimana. Buona Pasqua della settimana. Shalom. Shalom.